Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Mare e relax per Ilari Blasi che alle vacanze con il suo compagno preferisce una dei figli. Ecco con chi ha scelto di passare il tempo in spiaggia, in vista delle vacanze estive. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo si prendono una pausa. Nonostante il suo futuro in Mediaset sia appeso a un filo, Ilari Blasi, appena tornata dalla sua vacanza in Sardegna con Michelle Unziker, ha deciso di godersi il mare e in relax con solamente una dei suoi figli. Come ha fatto già sapere Pier Silvio Berlusconi nel corso della scorsa conferenza stampa nel mese di luglio, il prossimo anno non ci sarà più l'isola dei famosi che resta momentaneamente sospesa. Soprattutto a causa dei disastrosi risultati in termini di Cher. Non si sa quale sarà il destino della conduttrice nell'immediato futuro. Il suo nome non appare in nessuno dei programmi del palinsesto della rete privata. Tutto questo mentre prosegue la fuga d'amore di Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due dopo essere stati a Ponza, hanno deciso di fare un itinerario molto più esotico e lontano dal caos di Roma. Infatti, i due si trovano attualmente in Madagascar che sembra proprio un angolo remoto di paradiso da soli senza figli. Mentre Ilari Blasi preferisce un tipo di vacanza più familiare. Ilari Blasi al mare con lei. L'ex capitano della Roma e la sua compagna hanno voluto condividere con i loro fan gli attimi più romantici di questa avventura in Madagascar. Svelando scorci di vita vacanziera in cui si vede tutta la loro felicità e il loro amore. Infatti, si capisce che i due stanno investendo tanto nella relazione, cercando anche di ritagliarsi dei momenti autentici da soli. In questo momento si stanno facendo avvolgere dalla bellezza selvaggia dell'Africa. Dall'altra parte, Ilari Blasi ha preferito passare le vacanze al mare con la figlia. Ilari Blasi ha un bellissimo rapporto con tutti i suoi figli. Eppure sembra che per queste vacanze abbia scelto di passare il tempo solo con una di loro. Infatti, è stata paparazzata con Chanel Totti mentre si divertiva per le stradine della bellissima Otranto. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha pubblicato una storia mentre era intenta a ballare per una serata in un locale e immediatamente sono accorsi un sacco di suoi fan sfegatati. Il giorno seguente hanno passato una giornata all'insegna del lusso in spiaggia. Tutto questo mentre Totti e Noemi Bocchi sono scappati per una fuga romantica in Madagascar. Totti e Noemi Bocchi Totti e Noemi Bocchi sono spettati per uscire e ripreere le Sud Uto amore. Riccate la stagione o aspettare la fuga romantica. L'ind44are, dovevaо non lo sfegare. Riccate la stagione o alare e alla stagione o alare. Riccate la stagione. Riccate la stagione o alare e curo. Grazie a tutti.